Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il Fuzzi Mib In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca MPS, più 7,68%. Le più forti vendite si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a meno 0,81% Tra le principali materie prime, l'oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a più 0,03% Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Sono previsti sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'indice ZEF, e dalla Spagna quello dei prezzi al consumo Grazie a tutti